Presidente, allora un appuntamento aperto a tutti, lo scopo è quello di passare una domenica di grande divertimento ma anche di grande solidarietà. Sì, una domenica all'insegna dello sport e della coesione, quindi l'appuntamento domenica alle ore 8 in piazza 20 Settembre per la manifestazione podistica della città di Fano, quindi il terzo trofeo Lamberto Tonelli. È una manifestazione in crescita che quest'anno è riconosciuta anche dalla regione, quindi ci sarà il patrocino del Comune di Fano e della regione, quindi per noi è un onore rappresentare la regione proprio domenica. È una gara rivolta a tutti, quindi ci saranno runners competitivi che provengono da tutte le parti d'Italia e camminatori per un giorno, famiglie, bambini, ragazzi, insomma tutti siamo in grado di correre 5 km, qualcuno 10 per fare due giri e quindi siamo tutti chiamati a partecipare domenica. Lo scopo è naturalmente anche quello della solidarietà, ci sarà una donazione che voi farete quest'anno importante? Certo, quest'anno cerchiamo di donare ad Ail e Pesaro che ne hanno tanto bisogno e cerchiamo di starli vicini in queste manifestazioni.